basta la vista ragazzi sono sempre io the gamers 800 ragazzi oggi siamo un nuovo video su second son iniziamo subito allora ok allora arrivati qua ragazzi ormai sto registrando un video dopo l'altro ormai è una cosa spettacolare perché io registro sinceramente solo sabato e domenica tutti i video insieme allora qui vedo una missione allora avvia missione scala esterno sono un figo non sono un pazzo ok raga che bello figo che potrebbe essere il motivo per il quale riesco ad assorbire il potere da alcuni conduit come ad esempio anche e non dagli altri come ad esempio uno di questi agenti del dupi e ora non cominciare con te l'avevo detto che vediamo forse di qua raga una risposta è un po difficile devo dire forse di qua e da rampicati non riesce forse qua non riesco a capire raga ok ok deve essere tipo la che devo andare ok non avevo visto proprio scusate ok raga quindi adesso forse di qua qua sopra e adesso fammi vedere ma c'è la scala può bastardi di merda mi state facendo non capire più niente sicuro il filo che cazzo doveva essere se no vabbè raga oh che che cazzo è sto non pensavo avessero bloccato gli ascensori mamma mia raga ok adesso ah mi devo buttare lì ok raga che non sia in grado di assorbire solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente no non mi dici che cade giù magari augustin gli agenti del dupi hanno preso tutti i loro poteri più deboli da augustin quindi forse non possono passarli ad altri nemmeno a vabbè raga dai non è niente ma mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti mi pare giusto non insistere la prossima volta però cerca di non raccontarmi bugie fidati un po' di più di tuo fratello eh già ti fido un po' di più vabbè ora so cazzate vostri non so niente a riguardo dimenticavo ti saluto a betty cosa? quando ci hai parlato? eh prima al telefono e me lo dici solo ora avevo da fare ah ok raga devo salire di qua non l'avevo proprio visto sinceramente scommetto che è qua sopra no fanculo mi se ne falliti ma che cazzo dai vabbè raga non è niente modo di conoscere eh sapi lui 3 checkpoint cade come niente ok come ad esempio uno di questi agenti del dupi ah non dovevo esaltare ok raga ora non cominciare con te l'avevo detto ok voglio solo una risposta vabbè che dovrei fare adesso sei stato di là sicuro no 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 ce la dovrei fare invece no no ce l'ho fatta raga era con il potere che dovevo usare giustamente non è che posso ehi non farsi scherzi sta roba dall'interno fa ancora più schifo vado proprio a spaccare questo coso ma che brutta musichetta ok ma cos'è come risponde al telefono se stai sopra qua e non ho capito raga sto fatto non ho veramente capito mamma mia raga sotto che altezza porca puttana mi state facendo cagare sotto eh ciao betty ciao tesoro ah ecco mi sa che siamo arrivati raga ovviamente era ora ah ok sono entrato ispezione il tetto dello space needle sul monte di osservazione non abbassare la guardia sotto mettiamo raga ma al solito ok che cazzo è successo ok assorbi fumo merda dai pam pam sottometti 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 ehi tu ok no questo ma mi ammazza proprio questi poi si riprendono raga quindi devo essere proprio veloci eh ok bene procediamo verso l'alto certo ok allora raga adesso ah sono quasi in cima devo andare di qua giustamente devo andare sempre più so oh merda ok sopra il condizionatore dell'aria deve essere questo a tenere insieme tutto che cavolo che cazzo è successo non ti avevo mai visto prima no bello raga sta battuta hanno un piccolo esercito qua sotto bene sei nel porto giusto allora oppure che non gli piace chi gioca con i loro giocattoli concentrati vedi un modo per bloccare le comunicazioni ah si c'è una specie di oh merda serve a tenere fissate le antenne no che cazzo è bruttissimo raga che cazzo ho fatto l'ho giustiziato non l'ho fatto neanche apposta dai ma che cazzo sta roccia di merda dai porca puttana ok raga mamma mia no dai vabbè dai raga ricominceremo di quasi culo troppo è molto molto difficile che cazzo volete da me puoi vedere che devo rompere questo e mi devo assorbire no sono morto ancora no forse non lo devo rompere in questo momento forse lo devo rompere dopo mamma mia raga canzoni rock a motore dai 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 cazzo di munizioni distrotte me lo so preso io in culo vabbè e dai merda ma si possono uccidere questi bastardi dimmi di si merda raga diventare veramente difficilissimo e dai riprenditi velocemente dai devo riuscirci porca puttana non saranno mica infiniti devo uscire prima stessi bastardi ok nemico sottomesso vabbè il fumo ce l'abbiamo ancora no mamma mia raga ok no dai dai sottomesso e dai ok raga ci rimane solo lui adesso e come dovrei fare a ucciderlo a sto figlio di puttana con i poteri oh che strano raga stutezio non riesco a capire qua si dovrei ucciderlo con le catene no assorbi i fumo mi sa che è lui ok lo distrugge sto coso mi sa no vediamo forse è questo fumo 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 mi serve del fumo ah ecco l'ho visto allora distrugge evidentemente questo coso distrugge il sostegno ottenere nuovi poteri non è un male e si ma io lo sto distruggendo questo pensavo che si rompeva ok raga tutti i poteri mi sono preso oh mamma mia raga è spettacolare beh normale ti credo ok raga quindi ci prendiamo mamma mia ecco fatto un decoratore ci riprendiamo tutti questi ok mi sa che abbiamo finito la missione raga oh sei stato promosso a guardiano sei più vicino a diventare un eroe mamma mia raga un decoratore della serie karmica completo una serie karmica sottomettendo i nemici vabbè lo sapevamo già col panni civili interromperai la serie ottenuta la serie karmica per eseguire uno schianto orbitale vabbè chissà che cosa sarà raga e perché qua ci sono due forse sono sotto le missioni ok vabbè noi intanto ce ne andiamo di qua raga perché la missione l'abbiamo finita no 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 andiamo di qua raga ok vabbè raga io direi che per questo video può bastare cioè per oggi è tutto quindi mi raccomando raga lasciate un like condividete e iscrivetevi se non siete iscritti alla prossima e iscrivetevi